Ave Maristella, Dei Mater Alma, Adque Semper Vi Rego, Felice Li Porta, Sumensi Ludovem, Gabriele Isore, Funda-nos in Pace, Mutance Venome, Solve Vincla Reis, Profere Lumencecis, Malla Nostra Pele, Bona Cunta Poce, Mostrate Sematrem, Suma Perte Precem, Cui Pronobis Natus, Tu Lites Etut, Virgo Singularis, Inter Omnes Mitis, Nos Culpis Solutos, Mite Facet Castos, Vitam Prestam Puram, Inter Reparatutum, Ut Videntes Jesum, Semper Coletemur, Sit Laus Deo Patrim, Sumo Cristo Decus, Spiritus Sanctum, Honor Tribus Unus, Name. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti, Name. Dominus Vobis Cuma, Per antica tradizione, ogni giorno alle 12 in tutte le parti del mondo, si recita la preghiera Mariana dell'Angelus, una preghiera che compendia la stupenda storia dell'Incarnazione del Figlio di Dio attraverso il Sì di Maria proprio fra le pareti di questa casa qui a Nazareth. La comunità dei frati minori custodi di questo santuario si fa voce di tutta l'umanità e insieme per intercessione della Beata Vergine di Nazareth innalziamo la preghiera al Dio fatto uomo per il Santo Padre, per la Chiesa, per tutti coloro che si raccomandano alle nostre preghiere e quest'oggi in modo particolare per i pellegrini giunti fin qui dalla Slovenia, accompagnati dall'Arcivescovo di Lubiana, dal Ministro Provinciale, dal Commissario e dal Rettore del Santuario di Maria che oggi benediranno la vetrata della patrona, della Regina della Slovenia qui a Nazareth. Affidiamo anche tutte le loro intenzioni alla Vergine Maria perché le presenti al Figlio suo. Voglia la Vergine dell'Annunciazione volgere il suo sguardo materno su tutti noi qui presenti, sui pellegrini che passano e passeranno, affinché il suo Vangelo si estenda fino ai confini della terra. Angellus Domini, ec nunziavid Maria, et concepide Spiritus Sancto. Ave Maria, grazie plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimuliedibus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ecceancilla Domini, fiat mi secundum verbum etus. Ave Maria, grazie plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimuliedibus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Et verbum ic caro factum est. Neta vita vit in nobis. Ave Maria, grazie plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimuliedibus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, o digne efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Grazie an Tua, Anquesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi, Filii Tui, incarnazionem cognovimus, per passione meius et crucem, ad resurrectionis gloriam per Ducamur, per Christum Dominum nostrum, Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula, seculorum, Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula, seculorum, Amen. Requem eternam dona eis Domine, et lux perpetua luce at eis, requiescant in pace, Amen. Dominus Vobiscum, et con Spiritu Tuo, per intercessionem Beate Marie Virginis, benedicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. I te in pace, Deo gracias. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radic, Salve Porta, Ex qua mundo lux ex orta, Gaude Virgo Gloriosa, Super Omne Speciosa, Valle Ovalde Deco Ora, Ne pro nobis, Cristo me gesora. Amén. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.